bella raga bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale allora ragazzi mia colpa perdonatemi prima in live non mi sono accorto che è sbucato il furgoncino con la riga ragazzi quindi del nuovo aggiornamento praticamente sto furgoncino perché non ce ne siamo accorti raga perché se non ci vai vicino non spawna non si vede ok quindi quando sei abbastanza vicino sbuccherai mappa questo furgoncino ragazzi per quello non ce ne siamo accorti quindi a questo punto una volta che lo trovate che è in questa posizione cliccate freccia a destra ragazzi e ci sono tutte le varie armi ci sono tutte le armi del cavolo qua che abbiamo già noi nell'inventario eccetera e poi finalmente abbiamo il cannone a rotaia la rei gun ragazzi ma come potete vedere io ce l'ho già comprata e ragazzi io l'ho presa con il glitch quindi vi date tranquilli che io ve l'avevo detto quando savix vi dice le cose li dice perché ne è sicuro se no non lo dico raga quindi ho evitato di spendere 700 pappine ragazzi perché veramente comunque sia sia legale potente ma quasi un milione costa quella roba io l'avevo già presa con l'attività moddata ragazzi il video ve lo lascerò in descrizione che se funziona ancora magari evitate di spendere soldi e ve la prendete in quella maniera così siamo tranquilli che non succede niente abbiamo anche i giubbotti ragazzi potrebbe essere una cosa utile non so perché ma mi sento che secondo me qua qualche glitch per prenderli tutti uscirà sicuro raga anzi sarebbe buono provarci io ci ho provato con anawak siamo su xbox e cosa succede abbiamo solo il primo il secondo messaggio di anawak ma secondo me raga qualcuno di play se vuole provare o comunque sia qualcuno che si vuole sbattere coi tre messaggi qualcosa secondo me succede si bagherà sicuramente il menu e potremo fare qualcos'altro guarda ne sono quasi certo quindi a questo punto lasciate un like lasciate un commento supporto a texavix condividete e alla prossima bella rega